... Bolzano, piazza Anna Pichler, quartiere di Casanova. Si è ripetuta anche quest'anno la tradizione che vede l'amministrazione cittadina impegnata nell'allestimento e nell'accensione anticipata delle luminarie natalizie anche nei quartieri più lontani dalle luci del mercatino di Natale di Piazza Walter. Quando c'è buio, vicino alle giornate più brevi, ci deve essere la luce che illumina proprio noi interiormente. È un momento di meditazione ma anche di gioia, di serenità, di tolleranza, di comprensione. Spero che questo messaggio passi in una società che a volte è un po' sfilacciata, violenta e maleducata. Sì, è un piccolo grande segnale. Voler essere qui oggi ad aprire in qualche modo il luminarie natalizie partendo dai nostri quartieri vuole essere un segno di attenzione verso quelli che sono i nostri quartieri che sono importantissimi per la nostra città. Sappiamo come il mercatino di Natale in qualche modo è focus centrale per la nostra città ma crediamo che tenere alta e viva comunque l'attenzione sui quartieri con una bella illuminazione è sicuramente un segno importante. Vorrei ricordare come oggi partiamo appunto da Piazzetta Anita Picler che appunto è il quartiere Casanova, un nuovo quartiere della nostra città dove tante famiglie stanno arrivando, stanno abitando è giusto creare un senso di appartenenza anche in questi luoghi crediamo che questo sia un piccolo segnale. Il sindaco Renzo Caramaschi insieme all'assessore comunale alla partecipazione Angelo Gennacaro ha sottolineato come l'amministrazione comunale abbia voluto riconfermare anche in occasione del Natale l'impegno nei confronti dei quartieri per rendere Bolzano sempre più una città policentrica. Vorrei poi dire come nell'arco delle prossime settimane accompagneremo con una serie di eventi nei nostri quartieri proprio l'arrivo del Natale nei quartieri. Ecco, vogliamo tenere viva quella che è una tradizione importante per la nostra collettività e dire che l'amministrazione comunale c'è anche nei quartieri più distanti dalle luci del centro storico. L'obiettivo è quello di rendere partecipi e condividere con i cittadini il momento dell'avvio dei festeggiamenti evidenziando la presenza e l'attenzione dell'amministrazione comunale non solo per le aree di interesse turistico. È importante che questi quartieri possano vivere abbiamo biblioteche, abbiamo piazze, centri di convivenza e quindi speriamo che il Natale si diffonda nei cuori, nelle famiglie veramente con serenità e la gioia di tutti soprattutto dei bambini a cui questa festa è dedicata. Luci, suoni, farfalle luminose e giocolieri tutto ha aglietato l'evento. Grazie. 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 Grazie.